Nel nuovo ospedale noi continueremo la nostra attività di ricerca che già stiamo svolgendo nell'attuale sede. Chiaramente avremo a disposizione un ospedale completamente nuovo e anche degli spazi di ricerca molto più ampi, adeguati alle nostre attività e che quindi permetteranno di incrementare la nostra attività, anche perché il nostro ospedale diventerà un ospedale generale, quindi oltre alle classiche e tradizionali ricerche nell'ambito dell'ortopedia, incrementeremo con ricerche nell'ambito dell'apparato cardiovascolare e nell'ambito della reumatologia di altre branche della medicina che saranno presenti nel nuovo Galeazzi.